Il nuovo piano della sosta porta grandi cambiamenti in città dalla definizione di aree di sosta dei monopattini regolamentandoli a modifiche in ZATL sia della possibilità di entrare in ZATL sia di pedonalizzazione di alcune vie pedonalizzazione di alcune piazze dei quartieri pensiamo a San Zeno o anche alla piazzetta della funicolare un tema di creare un'area vasta a bassa intensità di traffico più allargata rispetto all'attuale ZATL tutti strumenti accoppiati anche con l'investimento del filobus e con gli investimenti ciclopedonali che stiamo facendo per rendere una città più sostenibile